positivo e la vittoria pienamente meritata. E tu cosa ne pensi della partita Luca? Far coincidere il primo gol fuori casa con una vittoria non era un'impresa semplicissima soprattutto in una gara complicata come quella di oggi. Siamo ai titoli di coda. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. È stato un onore come sempre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.